Ecco come si gioca al gratta e vinci ricco natale. Si possono grattare all'inizio i due bonus da 100 euro, ci sono due simboli sotto, in questo caso il guanto e in quest'altro caso il fuoco. Se uno di questi due simboli si trova all'interno del gioco 1 o del gioco 4 oppure nei tuoi numeri del gioco 2 e del gioco 3 si vinceranno 100 euro. Il gioco 1 consiste nel trovare almeno tre simboli uguali disposti in orizzontale, in verticale o in diagonale. Si tratta di simboli tutti riconducibili alle festività. Ecco qua. In questo caso non ci sono nessuno dei tre simboli uguali allineati, quindi in questo caso non è vincente. Passiamo al gioco numero 2. Questo è molto più semplice. Bisogna trovare uno dei tuoi numeri, in questo caso, eccoli qua questi che stiamo grattando, all'interno dei tuoi numeri. I numeri vincenti devono essere trovati qui all'interno. C'è anche un numero bonus che moltiplica per 10 la possibile vincita. Se si trova in questo caso il 31 all'interno dei tuoi numeri si vince 10 volte il premio. Andiamo a verificare i numeri. nella prima linea non ci sono numeri vincenti rispetto ai numeri vincenti rispetto a quelli che abbiamo grattato. La seconda linea. Anche in questo caso non ci sono numeri vincenti. Terza ed ultima linea. Anche in questo caso non ci sono numeri vincenti, non c'era nessuno dei tuoi simboli. Quindi passiamo al terzo gioco che è molto simile al secondo. Numeri vincenti, i tuoi numeri ed un numero bonus che moltiplica per 2 il possibile premio. Grattiamo i 5 numeri vincenti, il numero bonus e andiamo a vedere se si trovano all'interno dei nostri pacchi. Nella prima linea non ci sono questi numeri. Seconda linea. Neanche nella seconda linea ci sono questi numeri vincenti. Terza ed ultima linea. Anche in questo caso non ci sono i numeri vincenti. L'ultima possibilità è affidata alle sei calze. Qui bisogna trovare tre importi uguali per poter andare a riscuotere. Anche in questo caso non ce l'ha vincita. Quindi il biglietto non è risultato vincente.